Ciao a tutti gli amici dei spazio e dei pad device Finalmente anche io, Graziani e Francesco, scusate per video e siete male ma sono in macchina Sto per partire per Roma, anzi sono già partito e raggiungerò gli altri E ci saremo io e lui Quindi vi aspetto, così magari potrete darci anche un'occhiata prima di comprarlo E niente, tutti a Roma